amici miei bentornati sul canale oggi voglio parlarvi dell'esordio alla regia di margherita bui volare un film che è stato presentato alla festa del cinema di roma nel 2023 e che è approdato nelle sale italiane dal 22 febbraio del 2024 ammetto che la curiosità ce l'avessi perché margarita bui è sempre stata un'attrice che ho apprezzato ma non solo con carlo verdone anche in tante altre pellicole l'ho vista recentemente nel film romeo e giulietta di giovanni veronesi molto carino ve lo consiglio ne ho parlato anche sul canale lei interpretava un'attrice e questa cosa accade anche nel suo film d'esordio da regista perché si chiama anna b è un'attrice con la fobia dell'aereo e già questa cosa avvicina il personaggio che interpreta a lei stessa vera e propria perché è come se esorcizzasse la sua fobia attraverso la creazione di un personaggio di finzione ma con molti aspetti autobiografici che è alle prese con una carriera recitativa potrebbe avere quell'opportunità che la farebbe svoltare andando in corea per lavorare con un importante regista che ha un nome similare a kim ki duke ma non è lui uno che fa i film importanti ma anche un po pallosi solo che non riesce a salire su quell'aereo scappa il terrore il suo ruolo viene preso da elena sofia ricci che nel film in maniera autoironica interpreta se stessa ed è un po la sua rivale queste sono le premesse di un film che unisce insieme cose reali cose inventate ma alla base c'è veramente il terrore dell'attrice per gli aeroplani nel film margherita bui dirige sua figlia cioè caterina de angelis che interpreta la figlia anche nel lungometraggio lei è molto brava lo ha dimostrato nelle due stagioni di vita da carlo come sapete ho apprezzato tantissimo la prima la seconda no ma trovereste la recensione sul canale poi si somigliano moltissimo ed è curioso no che abbia interpretato sia la figlia di carlo verdone sia la figlia di margherita bui comunque di due persone che hanno lavorato molto bene insieme il film a mio avviso parte decisamente bene il primo quarto d'ora mi ha divertito mi piaceva questa componente metacinematografica anna b che alle prese con la sua gente mariolina interpretata da anna bonaiuto mi ricordava quasi una dinamica da call my agent io non ho visto la serie originale bensì quella italiana che mi è piaciuta troverete i miei video sul canale nel caso vi andasse di vederli poi margherita bui decide di inserire una sottotrama che avrà un peso dominante all'interno della pellicola che è praticamente ci mostra la protagonista anna b intenta superare le sue paure per il volo seguendo questo corso insieme ad altre persone che hanno la sua stessa problematica e lì la pellicola si arena piuttosto che decollare va ad infrangersi e si infrange in una dilatazione inutile di dinamiche non richieste per lo meno per me che possono portare ad una noia incessante si vede che margherita bui si rifà a carlo verdone mi è venuto in mente ma che colpa abbiamo noi poi comunque è una è un ruolo quello di anna b che ci vuole far capire quanto sia forte questa paura tant'è che prendere che prende degli ansiolitici quindi si vede che il cinema di verdone l'ha formata ma ci possiamo rivedere un po anche di ospite insomma guarda ad un cinema italiano che ha saputo essere molto importante nel nostro panorama cinematografico però sbaglia in toto per quel che mi riguarda la direzione che fa prendere al film perché quando entrano in scena gli altri personaggi a me non interessava niente delle loro storie non interessava niente dei loro rapporti abbiamo giulia michelini nel film anche attori che solitamente mi piacciono abbiamo euri di saxen francesco colella maurizio donadoni pietro ragusa insomma un nutrito cast di attori tutti pronti a raccontare le proprie paure perché non riescono a prendere l'aereo ma così facendo il film mette totalmente da parte tutto quel che di riuscito c'era nel prologo cioè la vita così altalenante di un'attrice che perde ruoli importanti perché a questo terrore non riesce a volare la differenza che si mostrava fra il finto e il reale perché nella finzione quando è sul set di questa serie dove interpreta una finanziera beh deve girare una scena in cui salire su un elicottero c'è la controfigura nella vita non ci possono essere controfigure ed era questo il bello vedere come lei sarebbe poi riuscita a salire su quell'aereo anche perché la figlia da lì a poco deciderà di andare a studiare all'estero quindi se la voglio incontrare o aspetto che torni lei una volta ogni morto di pavo oppure io devo andarci tutto quello che di interessante vedevamo anche l'incontro scontro con elena sofia ricci bravissima come al solito si perde per soffermarsi il film per 50 minuti abbondanti su queste storie di personaggi poco carismatici molto scialbi privi di spessore tu ti rendi conto che c'era un oceano di cose da narrare divertenti metacinematografiche invece quello che sembrava essere un film scoppiettante diventa una pellicola che si adagia sugli allori poi si vede che margherita bui ci mette un sacco di cuore a me dispiace bocciarlo questo film perché sono andato in sala con le migliori intenzioni e quando ho visto quell'inizio che mi ha convinto subito detto dai siamo su una buonissima strada ed invece questi personaggi sono sfilacciati alcuni sul finire della pellicola hanno la propria conclusione poco interessante ma ce l'hanno altri si perdono in una miriade di sottotrame che non si concludono ci potevano essere degli sprazzi interessanti che ne so durante questo corso si mette a tu per tu con un critico cinematografico che ha sempre bocciato i lavori di anna b oppure il discorso sul cinema autoriale messo in contrapposizione con le serie commerciali che fa anna b seguite da milioni di persone tutti spunti interessanti che avrebbero fatto breccia nel mio cuore se inseriti all'interno della pellicola in momenti in situazioni diverse cioè piuttosto che ad un certo punto mettersi dentro una stanza con tanti sconosciuti e sentire i problemi di ognuno e non te ne può fregar di meno avrei preferito continuare a vedere la vita frenetica di un'attrice che perde ruolo e che magari un giorno perché ha perso quel ruolo si trova faccia a faccia con il critico che ha sempre avuto una sorta di disprezzo per lei per il cinema per le serie che fa e quindi discussioni che potevano essere divertenti ma anche ciniche con riferimenti cinematografici come c'è anche questa sorta di amore e odio verso il cinema coreano quando si parla di un regista sicuramente bravissimo ma che fa i film pallosi questo mi piaceva anche un po il sarcasmo il non prendersi sul serio pensiamo anche ad ogni ad ogni scena poche ma comunque ad ogni scena con Elena Sofia Ricci c'è solo le scene con Elena Sofia Ricci che contate una accanto all'altra prenderanno otto nove minuti di tutto il film valgono di più di tutto il resto anche il rapporto con la figlia avrei voluto si soffermasse di più su questo rapporto non sempre facile non sempre idilliaco con sua figlia che è bravissima si somigliano molto il ruolo dell'ex marito è talmente risicato che quasi ad un certo punto ti domandi a cos'è servito quel personaggio francesco colella che ho apprezzato in altre serie in altri film che interpreta il comandante non lo so è un film che proprio ad un certo punto ti vuol far capire quanto tante persone possono avere questo stesso trauma per motivi che a tu spettatore non interessano ma che poi si arena lì non va oltre non va avanti arrivi a una conclusione che ci mancherebbe potevi anche aspettarti non sarebbe stato un problema quello poi non vi rivelo se lei ce la fa superare quello scoglio oppure no però è una cosa prevedibile no cosa vi devo dire di più ribadisco va benissimo anche mostrarmi la crescita della protagonista ma c'è modo in modo di farlo non conta il cosa conta il come e quando ho visto che da quella sala con questo gruppo non ne usciva velocemente dentro di me ho detto ok tutto il film sarà questo mi ha ricordato un po ma che ne sarà di noi di ma che colpa abbiamo noi scusatemi di di carlo verdone che per me è uno dei minori infatti di verdone uno fra quelli che riguardo di meno e quindi mi dispiace mi dispiace perché non sono riuscito a divertirmi non sono riuscito a restare sorpreso non sono riuscito a dire che bell'esordio niente di tutto questo e mi spiace sarò il primo a vedere le successive pellicole di margherita bui se deciderà di farne altre però quell'enorme potenziale iniziale non l'ho più visto c'è anche massimo defranco vicino ai panni del padre anche lì inizialmente poteva essere carina la dinamica mostrata poi diventa ripetitiva con il padre che pensa solo alle parole crociate questo è il mio parere un film che non mi ha convinto proprio per niente se non nel suo primo quarto d'ora nel caso l'aveste visto fatemelo sapere così ne parliamo così ne discutiamo non c'è bisogno di fare una parte spoiler perché vi ho già detto quel che mi ha lasciato deluso senza adesso il bisogno di descrivervi scena per scena perché ve l'ho già detto dopo il primo quarto d'ora lei farà parte di questo gruppo e tutto il film sarà sopra le righe in dei momenti quasi assurdo e tu dici ok mi aspettavo molto altro da margherita bui perché ha tutte le capacità per fare un qualcosa di diverso e all'inizio del film l'aveva dimostrato quanto sarebbe stato bello volare se proprio come una rondine avesse mostrato margherita bui la sua protagonista volare fra i vari personaggi che incontra nella sua vita cercare di evitarli volando basso quindi pro e contro della sua esistenza per poi alla fine prendere il volo invece qua ho visto veramente un sacco di occasioni mancate poi fatemi sapere la vostra nella sezione commenti vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulla mia sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto e alla prossima